Procede la ricostruzione post terremoti a Capitignano. Il comune aquilano dell'Alta Valle dell'Aterno è uno di quelli che ha dovuto fare fronte ai danni causati da due eventi sismici, quello del 2016-2017 e ancora prima quello del 2009. Ad oggi la ricostruzione di Capitignano è al via in modo totale, sia nel 2016 abbiamo uno stato di avanzamento pari al 70%, per quanto riguarda il 2009 che era quella che ci proccava di più, oggi la vediamo con il sorriso, sono partiti già tantissimi aggregati, siamo in base di processare altri aggregati, quindi sono fiducioso che l'impegno che ho preso con la mia comunità nel 2021 di ultimare tutta la ricostruzione pari al 50%, penso che ce la faremo. Dal primo cittadino di Capitignano, Franco Pucci, anche una novità importante per quello che concerne la chiesa di San Cipriano, situata nella frazione di Pago. Per quanto riguarda invece i beni ecclesiastici, a giorni rideremo l'apertura alla chiesa di San Cipriano, la prima dell'ordinanza 105 del comprensorio aquilano. E sempre riguardo l'ordinanza 105 sui beni ecclesiastici, sviluppi positivi che riguardano il comune di Capitignano, ci sono anche sul fronte della chiesa di San Flaviano e del santuario della Madonna degli Angeli. I giorni scorsi mi sono confrontato con l'Usla dell'Aquila che mi conferma che entro il mese di settembre avremo l'impresa di dolare a fare il lavoro a San Flaviano. San Flaviano è la chiesa più importante perché è la chiesa del nostro padrono. Per quanto riguarda il santuario Madonna degli Angeli, Santissima degli Angeli, è in fase di progettazione e di progetto, quindi sono fiducioso di avere l'esecutivo definitivo entro fine anno. Per quanto riguarda il nostro padrono, è in fase di progettazione e di progettazione e di progettazione.